Fai gli auguri a tutte le donne di Casa Marani a nome nostro. Sarà fatto, sono entrata prima a salutare e sono molto molto felice di questo momento. Per la festa delle donne a Casa Marani arriva un regalo speciale, un alberello di mimose donato alle ospiti e alle operatrici della RSA dall'ospice GL. Gli anni scorsi venivano distribuiti dei mazzetti del tradizionale fiore giallo, ma quest'anno l'emergenza Covid ha costretto il sindacato ad optare per un'unica pianta. Un momento di festa in questi mesi difficili con la pandemia che ha privato gli anziani delle case di riposo, del contatto con i familiari e delle quotidiane attività di svago organizzate nelle strutture. A Casa Marani da novembre Covid Free si sono completate le vaccinazioni creando un clima di maggiore serenità. Al momento si vive molto serenamente, si sono riprese le attività interne, quantomeno non quelle con le compagnie di teatro e tutte le attività con gli esterni. Il dono dell'ospice GL è stata l'occasione per ricordare le tante battaglie ancora aperte per una vera uguaglianza tra uomini e donne. La parità salariale tra uomo e donne ancora non c'è. Non c'è la parità nel ricoprire nell'economia, nella società, ruoli simili o identici. Non dobbiamo dimenticarci appunto della lotta che continuiamo ogni giorno contro la violenza, contro il ruolo che spesso ci viene negato.